Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di la Discordance Dovrebbe essere il diciottesimo, diciannovesimo episodio, non mi ricordo Ecco, sono qua, anche il faiuto Ho trovato questa chest ma Allora, dentro c'è tanta roba, essenzialmente Pazzo butto Ovvio Allora, doppia scista Cosa c'è? Vabbè, ma ci sono, no, no, sta laggando Sta laggando Sta laggando Sta laggando E cambia Cambia un po' Perché sta laggando Allora, cosa c'è esattamente qua sopra? Oh mio dio No, no, no Che appena No Maledetti Rompiti subito Arco con flemi e pancia Che cazzo Ok Streghe Via I Niente Qui niente P Streghe Via Cio c'è Cibo Grandissimo Ed fermi nel mio stupide Cazzo Oh Ma chiara Dove cazzo Dove? Da dove? E proprio perché mi stanno facendo incazzare Comunque Facciamo così Facciamo Così E poi c'è una chestplate Sì Poi c'è una sola Mi serve Questo Facciamo così Pantaloni Non c'ho voglia Questa L'ariccia La portiamo dietro Poi Frecce A volontà Questa roba L'anello L'anello del Non lo so L'anello del Non lo so Devo fare anche parkour Ma siamo scherzando Dio Parkourista Mamma mia Ma cosa c'è qui? C'è niente? Ma no C'è C'è Cosa c'è? Continua Ma cos'è sto percorso? No No Ho capito cos'è sto percorso Fuori Non è morta Ah Quei creeper c'erano perché Era buio Ok Prendiamo tutti i diamanti Di cui abbiamo bisogno 4 Pane Tanto pane Con nasce Polli E carbone Perfetto Vedete che ogni tanto La voglio vedere se spogliono Ho dispaunato E dov'è lo spoglione? Qua sotto Dov'è? Dov'è lo spoglione? Dov'è? 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 No no Adesso ti mi devi dire dov'è C'è stata Con funghi E non mi interessano Fornaci dove non c'è niente E qui Allora Fornaci dove non c'è niente Vedete c'è qualcosa o no Togliere sempre i quadri Nella CTM Sempre È una regola Pantaloni Cosa? Vuol dire Se praticamente Prova A farmi avvicinare Un Un nemico Questo Viene tipo Shuttato Malissimo Voglio provarli Beh sicuramente Non li posso provare Su un modo normale Ma cos'è? Tons 1201 Ma cos'è? Cosa? Che c'è del mattone? Perché c'è del mattone? Cos'è? Trova di attaccare Bellissimo 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 Complimenti a chi li ha inventati Voglio riprodurre In modo basso Già che non posso Perché Scusate il lag Ma non posso fare di merito Ve l'ho detto anche Negli scorsi episodi Via via Veloce 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 Pone esponjente Ok Cos'è qui? My mistake Cazzo avrà sbagliato Ora questo Segui la catena E troverai quel che c'è Bella Oh mio dio no Aspetta qui devo un attimo Aumentare un po' At the bottom Below the frame Is what you seek Ma cosa? Ok Ci sono Più o meno Ok In teoria adesso Se scavo Dovrebbe esserci Quello che cerco Secondo lui Cioè il disco Vero? Mi fa rincazzare Cos'è? Ma cos'è? Ma stai scherzando? No 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 Veloce Veloce Oh porco No 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 Ti prego no 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 Oddio mezzo cuore Oddio mezzo cuore Non ci credo Oddio mezzo cuore Fermi tutti Dov'è il disco di merda? Il dirà Ma non ci arriverò mai Mamma mia 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 Buon appetito! cosa c'è un altro posto questa cesta cos'è un break in shardless fire aspect vabbè ma non ce l'ha ad attacco in casa questa c'è la 8.5 vabbè comunque la prendo lo stesso perchè è forte chi è che mi ha avvelenato? ah giusto perchè ci sono quelli lì che rilasciano comunque io direi di concludere qua questo episodio perchè avrete visto solo vari spezzoni perchè io ho fatto una registrazione di 2 ore e mi ha scattato proprio adesso ma proprio perchè ci avevo da fare la pausa pranzo e perchè ci avevo da vedere i sorteggi vabbè comunque io vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo al prossimo episodio lasciate un piaccio, commento con il video, iscrivetevi e ciao a tutti